Benissimo benvenuti, vediamo adesso brevemente come usare Gimp per fare una locandina ho già fatto un video qualche anno fa, adesso lo voglio fare un po' meglio con il Gimp nuovo e soprattutto con una risoluzione un po' più decente è molto semplice, quindi cosa facciamo? anzitutto quando ho installato ricordatevi che la nuova versione di Gimp e alcune versioni di Gimp impiegano una vita a installarsi perché fanno non so bene che cosa sul disco a me ci ha impiegato 10 minuti comunque poi una volta installato vi compaiono queste tre finestrelle questo è il modo normale di lavorare con Gimp con tre finestrelle è possibile anche lavorare in modalità finestra singola ma in realtà è leggermente più scomoda quindi conviene in realtà abituarsi e usare questa versione bene, allora questo qui è la nostra plancia dove andiamo a mettere il nostro locandina la creiamo creiamo un'immagine che per esempio è 640x400 che è un po' piccoletta ma comunque può essere adeguata per molte cose che facciamo quindi verrà grossa più o meno così vedete c'è 640x480 a questo punto qui dobbiamo scegliere dell'immagine da metterci dentro notate che quando abbiamo creato l'immagine qui nei livelli abbiamo un livello che è lo sfondo cominciamo a inserirci un'immagine per esempio questa la possiamo trascinare semplicemente dentro questa immagine è dentro non appena l'abbiamo trascinata dentro vedete che è comparso un nuovo livello con il nome della foto quindi noi sappiamo perfettamente che questa è la foto ora, nelle locandine quello che si fa è quello di cercare anche di strutturare questa immagine quindi possiamo con questo simbolo possiamo scalare l'immagine e restringerla e quindi facciamo la scala ok? se no possiamo poi muoverla quindi metterla nel posto che più o meno ci aggrada con questo simbolo e poi possiamo fare invece delle cose interessanti che sono possiamo cambiare la prospettiva quindi se cambiare la prospettiva cosa facciamo? che l'immagine praticamente diventa praticamente accucciata cioè possiamo girare come se fosse un piano e possiamo fare degli aspetti prospettici interessanti tipo questo possiamo anche poi cambiare gli effetti nel senso che possiamo riapplicare la prospettiva n volte quindi ottenendo praticamente gli effetti effetti multipli possiamo prendere un'altra foto per esempio questa e trecinare quest'altra foto che vedete compare è praticamente anche lei come un altro layer e anche su questo possiamo farci il nostro mestiere quindi rimpiccioliamo la foto scala poi possiamo spostarla e possiamo e possiamo anche di nuovo fare questi effetti praticamente fatti sulla sulla nostra foto e possiamo praticamente lavorarci sopra ottenendo effetti così qui possiamo anche ruotare l'immagine vedete così l'immagine diventa ruotata e possiamo poi anche operare e fare delle trasformazioni sull'immagine nel senso che con questo metodo possiamo prendere dei pezzi quindi clicco la testa e posso prendere ingrandire solo la testa quindi seleziono un'area chiusa e poi posso vedete posso allargare questa qui è una cosa interessante perchè permette di fare delle manipolazioni delle immagini inoltre potrei dire che questa immagine mettiamoci un'altra immagine ancora qua sopra vediamo un po' se ci abbiamo qualcosa beh per esempio questa qua prendiamo questa immagine qua la mettiamo ancora ecco questa stupidaggine la mettiamo ecco la mettiamo come sfondo complessivo quindi basta che prendiamo la nostra immaginina e ce la spostiamo sotto se non funziona così a volte funziona la possiamo spostare in questo modo qua vedete che così praticamente finisce ecco un pochino sopra ecco finisce come sfondo delle tue immagini e questa cosa quindi riselezioniamo questa magari la ridrizziamo un secondo con questo sistema qua ruotiamo e poi la spostiamo la mettiamo magari sotto qua ok e quindi vedete possiamo fare tutti questi mestieri ora quello che si fa in una locandina adesso qui ho fatto un giochetto è di metterci delle degli effetti grafici ok questi effetti grafici più che grafici diciamo dei testi quindi mettiamo un testo quindi andiamo su A e poi qua selezioniamo un punto nella nostra locandina e gli mettiamo qua il testo dobbiamo selezionare qui lo troviamo il font e prendiamo un Bauhaus che vediamo un po' ce lo trova come così Bauhaus è un fonticino interessante lo facciamo grossino 48 pixel e poi scriviamo magari in che ne so in verde quindi selezioniamo prima la tinta poi eventualmente ce lo mettiamo qua quindi possiamo scrivere qui in verde facciamo salazarstenwag e qui vogliamo dire che è la lezione di salazarstenwag che serve la mia qui una cosa possiamo dirgli il rettangolo dinamico così diventa adeguato a dove lo vogliamo mettere questa cosa la possiamo spostare vedete che questo tra l'altro è diventato un layer che è questo e sta tra delle tra le varie cose quindi vedete che quando gira qua sotto va sotto questo questo oggetto ecco una cosa interessantissima che viene spiegata spesso è come fare un outline si dice cioè mettergli attorno questo qualcosa questo lo si ottiene andando a selezionare la scritta vedete su testo e poi si fa la testo a tracciato testo a tracciato crea praticamente una specie di individua tutto il testo non lo fa vedere adesso ma noi possiamo fare la selezione dal tracciato ora la selezione dal tracciato lui ha selezionato effettivamente tutta la nostra scritta perché facciamo questo? perché selezioniamo tutte le lettere poi ingrandiamo la selezione per ottenere l'outline quindi facciamo seleziona facciamo allarga la selezione la allarghiamo di 5 quindi diventa vedete che diventa tutto un po' allargato allargando così allora siamo sul testo questo e aggiungiamo un nuovo livello ok? il livello uguale trasparenze e compare subito sopra e ci siamo posizionati su questo livello usiamo ancora questo il secchiello scegliamo un colore da riempire e quindi qui possiamo scegliere ad esempio questo azzurrino ok? e poi andiamo e facciamo vedete ha riempito questo colore però il colore è questo livello che possiamo chiamare outline allora l'outline deve stare sotto quindi dobbiamo spostare qua sotto se non si sposta una volta non funziona una volta no potete farlo comunque così quindi lo mettete sotto vedete che sotto però sta male perchè il verde sul blu non sta un gran che bene quindi andiamo di nuovo qua sul nostro salazarstenberg questo e gli cambiamo il colore che invece di verde gli mettiamo un altro colore che stia bene con l'azzurrino per esempio proviamo questo ecco decisamente meglio perfetto ora in questo modo abbiamo fatto questa scritta vedete fatta in questo modo qua possiamo anche aggiungerci degli effetti qui filtri abbiamo degli ottimi modi per fare effetti luce e ombra ad esempio c'è questo che si chiama prospettiva prospettiva che dovrebbe lasciare una prospettiva questo qui si vede male dunque vediamo un attimo dove questo qua filtri luce ombra riprendiamone uno un po' ecco supernova questo qui è abbastanza più evidente supernova praticamente potete mettere una supernova c'è un simbolo praticamente in un punto questo ok e qui vedete praticamente come verrebbe il colore della supernova quindi se noi accettiamo questa cosa vedete che è comparso salazar stendvag con la supernova e poi possiamo ok e selezionare tutto facciamo ancora adesso un'altra scritta così vi faccio vedere due altre cosine interessanti quindi facciamo un'altra scritta qua sotto e qui ci scriviamo per esempio allora Bauhaus magari prendiamo un altro vediamo se abbiamo il courier courier new bold ok lo facciamo sempre a 48 qui diciamo lezione lezione di blender e mettiamo marzo 2014 vedete che il livello è qua è andato sotto degli altri quindi noi dobbiamo metterlo di sopra per poterlo vedere eccolo quindi qui abbiamo sopra e qui supponiamo invece di fare questo effetto di outline mettiamo direttamente un rettangolo dietro per mettere un rettangolo dietro possiamo fare una cosa simile prima nel senso che selezioniamo direttamente un'area che può essere ad esempio la stessa questa questa qua la ingrandiamo un pochino ok ecco su quest'area qua gli creiamo qua cosa facciamo? gli creiamo un nuovo livello questo qua e questo livello anche qui possiamo metterci uno sfondo lo allargiamo un po' e facciamo con la stessa tecnica quindi in questo modo ci scegliamo lo riempiamo con un colore per esempio giallo giallo luminoso e poi riempiamo e poi ricordiamoci che questo va sotto ok? quindi questo lo spostiamo sotto ok anche qua stesso problema di prima che non si vede bene possiamo anche fare di nuovo un outline di questo signore quindi andiamo su lezione lo testo tracciato seleziona dal tracciato eccolo lì facciamo seleziona aumenta allarga 5 quindi è diventato un po' più lungo facciamo un nuovo livello quindi livello nuovo livello eccolo qua che è questo livello qua e in questo nuovo livello qua ci facciamo un riempimento sempre con questo signore e lo riempiamo magari di un colore abbastanza scuro abbastanza chiaro insomma l'importante è quindi nero riempiamo e poi ci ricordiamo di spostarlo sotto quindi vedete ecco vedete che abbiamo fatto questo bel effettino se poi questa cosa la vogliamo rendere un po' trasparente possiamo lavorare su questo vedete che è il giallo e qui invece che è il 100% di trasparenza possiamo mettere 50 e vedete che quindi abbiamo il bordo che lascia vedere quello che c'è sotto poi vabbè questi livelli possono essere fusi nel senso che io posso prendere questo livello e fonderlo con quello sotto quindi questo è il testo lo fondo in basso poi lo fondo in basso e quindi questo praticamente unificato questo livello in modo tale da poterlo muovere senza dover avere tutti i livelli con cui l'ho composto e la stessa cosa posso fare questo fondo in basso fondo in basso per avere l'altra scritta questa qua che abbiamo fatto sopra qui possiamo fare la stessa cosa con questi livelli che abbiamo fatto con le immagini quindi potremmo prendere questa che è la lezione questa che è la lezione richiamiamola lezione per ricordarcelo e poi andiamo nella manipolazione e possiamo renderlo prospettico quindi rendendo prospettico vedete che si ottiene questo bel effetto lo trasformiamo eccolo qua e la stessa cosa possiamo farla anche ah questo qui tra l'altro vedete che ha creato un layer in più quindi lo promuoviamo a nuovo livello e quindi questo è diventato il nostro oggetto che è stato praticamente rifatto ok? e la stessa cosa possiamo farlo possiamo fare delle operazioni interessanti anche sull'altro livello per esempio sul salazar questa outline che era questo pezzo qua lo possiamo anche qui possiamo inclinare ad esempio ah questo qui era messo insieme all'altro vabbè comunque incliniamo questo e otteniamo praticamente questo effetto qua quindi vabbè lo vedete che lavorando in maniera opportuna tra l'altro si può anche lavorare con questo questo è il livello dietro e possiamo mettere delle sfocature ad esempio questo qua possiamo pixelare no? avviene bene mettiamo filtri sfocature gaussiana ok? quindi qui possiamo aumentare l'effetto vedete e quindi vedete possiamo quindi lavorare e ottenere e ottenere tutti gli effetti che ci interessano ok manca poi ovviamente come salvare questa immagine perché per salvarlo uno si aspetterebbe di fare salva e in effetti quando lo salvate viene salvato un file in formato xgf xgf il formato di gimp permette di poterci lavorare con tutti questi livelli e con tutte le impostazioni che avete fatto e questo può essere utile no? nel senso che facciamo salazar gimp livelli per modificarlo in futuro perché se viene salvata solo l'immagine non viene salvata come è stata fatta con tutte queste comodità ma se volete esportarla veramente invece su un sito o dove volete dovete fare un esporta e nell'esporta come potete scrivergli il tipo quindi png piuttosto che altro quindi se invece di png lo voglio chiamare jpeg ecco noi abbiamo l'esporta e quindi vedete l'esporta immagine come jpeg potete specificare come come fare il tutto eventualmente così fa vedere l'anteprima dell'immagine che uscirebbe no? e noi facciamo esporta e quindi abbiamo la nostra immaginina quindi a questo punto se noi andiamo a vedere la nostra immagine prodotta eccola qua un'immagine jpeg 91k mentre invece vedete è ben più grossa l'immagine xgf se andiamo ad aprirla ecco la nostra immagine è fatta e come vedete l'effetto è notevole e quindi lavorando con pochi concetti e usando i layer in un modo interessante e usando appunto queste cose che le ripetiamo le più importanti sono questo per muoversi quindi magari torniamo di nuovo sulla nostra come ricapitolazione quindi prendiamo il nostro pezzo per esempio questo layer se vogliamo spostarlo andiamo qua e lo spostiamo vedete che si sposta lasciando inalterato tutto il resto dell'immagine quindi possiamo fare degli effetti se vogliamo cliccare appunto su questa che è la questa è la zara January vabbè che muove l'immagine sotto possiamo ancora girarla possiamo fare quello che vogliamo quindi possiamo aggiungere possiamo anche scriverci possiamo anche dipingerci una cosa che se prendiamo la matita o il pennello possiamo andare qua e poi scriverci vedete possiamo fare e qui stiamo scrivendo sempre su un certo layer quindi la e possiamo farci i nostri fiorellini tutto quello che vogliamo fare e abbiamo selezionato questo quindi stiamo scrivendo su questo layer se prendiamo quest'altro layer e lo muoviamo vedete che questo è un layer che si comporta separatamente ok e direi che comunque questo è un po' tutto quello che credo che sia ottimo per riuscire a fare un bel po' di cose con Gimp anche se non siete completamente acclimatati Gimp è considerato un po' più difficile di altri programmi ma con un po' di cautela e senza farsi troppo spaventare permette di fare tantissime cose vi saluto buonanotte